Una disfatta in piena regola per il Napoli nel ritorno dei preliminari di Champions League. Allo stadio Mames vengono sconfitti per 3-1 dall'Atletic Bilbao, con la dolpieta di Adwitz ed il Tris ad opera di Gomez. Sui tre gol ci sono stati troppi buchi della difesa azzurra. Il gol per Tenoveo è stato di Amsic. I baschi accedono così alla base a gironi di Champions League, mentre gli azzurri di Benitez andranno in Europa League. E proprio nella seconda competizione europea oggi sono in programma i ritorni delle partite Torino-Spalato ed Inter-Stayernan. I Granata all'andata avevano pareggiato 0-0 in terra acquata, mentre i nerazzurri di Mazzari avevano vinto per 3-0.